L'incidente nella serata di domenica 28 agosto intorno alle 19.30 all'incrocio tra via Reberone via Maurizio Farina a Rivarolo Canavese. Una Citroen C1 condotta da un 66enne di Rivarolo proveniente da via Reberone si è scantata contro l'angolo del muro dell'asilo Maurizio Farina. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte. Dopo le prime cure l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Ivrea. Non è in pericolo di vita. La dinamica è a ravaglio dei carabinieri di Rivarolo Canavese che stanno procedendo con le certamenti. Grazie a tutti.